Salve ragazzi, secondo videogame log del canale, voglio partire subito dicendo un paio di cosette. Allora, per chi è interessato, un piccolo reminder per le beta che ci saranno a breve. Ci sarà Monster Hunter World, già scaricabile adesso e giocabile il 22, fino al 26 su PS4. Poi ricordo anche che c'è Dissidia, l'open beta di Final Fantasy Dissidia NT, dal 12 al 21 gennaio. E c'è l'open beta del nuovo gioco di Dragon Ball, dal 14 al 16 gennaio. Giusto un piccolo reminder per chi è interessato a questi giochi qui. Poi volevo dire, perché ci sono meno video? Perché ci sono meno video? Perché fa freddo. Io quando c'ho freddo non riesco a essere sveglio, mi addormento come niente, a letto ci sto 3 ore in più del solito, e in più col lavoro mi uccide, perché devo svegliarmi presto. Io vado a letto presto, ma non riesco a addormentarmi subito perché fa freddo il tempo che si scalda la coperta, eccetera. In più ho passato un bel po' di giorni di vacanze, tra novembre e dicembre, perché a novembre c'è stato Lucca. Sono stato qualche giorno fa a casa della mia ragazza, e poi ci andrò di nuovo Natale o Capodanno per festeggiare con lei. E questo è il motivo per cui i video mancano. Pensavo di rimuovere la mia schedule, la mia tabella di marcia, che era di 3 video a settimana, lunedì, mercoledì e venerdì, e ridurla a 1-2 video a settimana in giorni, potenzialmente martedì o giovedì, tempo permettendo. Un altro motivo per cui i video stanno uscendo veramente poco spesso ultimamente, e molti sono anche uncut, è perché mi sono fissato con... sono ritornato in fissa con Final Fantasy XV. Che è uscita una patch che ha cambiato praticamente il gioco, non è vero, non l'ha cambiato radicalmente, l'ha aggiornato abbastanza bene, positivamente, aggiungerei. Molto molto bello la modifica che hanno fatto, che state vedendo adesso sul schermo. Per chi non lo sapesse, il cambio di personaggio all'inizio del gioco, un anno fa, la release, non era presente l'anno aggiornato. Il 13 dicembre, con questa nuova feature, poiché è uscito l'ultimo episodio di Let's Chill 2017. Ci avvicinano le feste, comunque, e io penso che per Natale non avrò video particolari, a parte questo. Credo che farò un video dedicato a Natale, ma uno solo. Quindi non aspettatevi granché post-Natale, perché sarò in vacanza e probabilmente non editerò nulla, perché quando sono a casa della mia ragazza, a quanto parla il mio cervello si dimentica che esiste Sony Vegas e non editerò un cazzo. Per il resto, volevo solamente informarvi di questo. Non, per chi si stava preoccupando, non credo, che si stava preoccupando che fosse scomparso, che fosse impegnato, le problemi. Tranquilli, non è successo nulla. Sono io che ho poca voglia. Perché se uno fa le cose senza voglia, va a finire che le fa male, e io non voglio fare le cose fatte male. Perché se fai una cosa, devi fare bene. Detto questo, vi saluto, ne approfitto per augurarvi buone vacanze, buon anno, e ci vediamo al prossimo video. Spero più presto possibile. Ciao! 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 Ciao!